Ciao a tutti dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video ASMR Nel video di oggi useremo gli slime che abbiamo fatto insieme un paio di giorni fa Nel video di slime di San Valentino Lasciate mi piace se volete altri video ASMR Non dimenticate di iscrivervi al canale, tappare la campanella Ed ora partiamo subito con l'ASMR Ciao a tutti 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 Mentre per vedere